Cristiana, ma a casa la chiamano principessa, è cerebropatica, non parla e non sente. Eppure, circondato dall'affetto di familiari e amici, ha potuto costruire una vita ricca di tante esperienze. È stata una ragazza che non è stata segregata in casa. Abbiamo avuto tante belle occasioni, tante belle vacanze in montagna, al mare, con tanti amici, con parenti. Quindi lei non è stata sempre contornata di persone, anche di ragazzini, più o meno che crescevano della sua stessa età. Non è che è stata proprio la famiglia del mulino bianco, però comunque abbiamo avuto molte soddisfazioni. Ci sono state tante cose tristi, ma anche moltissime cose gioiose. Quindi io sono anche felice di come sia andata tutta la mia vita. Fanno fatica le famiglie che devono fronteggiare la disabilità, come ci confermano gli altri membri dell'associazione AFDEL di Grotta Ferrata. Per combattere contro i tagli dei servizi serve allora un supplemento d'amore verso chi, come Cristiana, più che diversa, è molto fragile. Nei miei ricordi di bambina, cosa le devo dire? Per me è sempre stata normale, non sono mai riuscita a vederla come una persona diversa. Io sono dell'idea che c'è molto da imparare. È un continuo costruire. Sono dei soggetti particolari, per cui cambia proprio la prospettiva di vita di ognuno di noi. Ti fanno, ma questo non lo dico per vanità, ma ti fanno comunque salire un gradino al di sopra di quelle che sono le normali apparenze. Ti arricchiscono culturalmente, ti arricchiscono psicologicamente e emotivamente.